Un incontro urgente con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per discutere delle problematiche relative alla presenza di un impianto a biomasse in via di realizzazione in località scavate case rosse. A chiederlo i rappresentanti del comitato dei residenti della zona. Nella missiva anche la richiesta all'ARPAC di effettuare tutte le verifiche sull'impianto e di installare delle centraline per la misura delle concentrazioni di PM10, nanoparticelle e per la misura dell'impatto acustico. A luglio di quest'anno ha fatto un anno dal primo post che facevamo su Facebook e quindi iniziamo questa battaglia per denunciare l'installazione di questo impianto a ridosso delle abitazioni di scavate case rosse. Purtroppo abbiamo avuto diversi incontri, almeno un paio e abbiamo avuto contatti con l'assessore Caramanno da mesi e loro hanno anche preso delle iniziative però di fatti non abbiamo mai avuto una risposta formale nonostante le nostre continue sollecitazioni per arrivare alla conclusione di questa vicenda. Siamo riusciti a bloccare un secondo impianto per cui i vigili del fuoco hanno espresso un parere negativo, avevano chiesto dell'integrazione però poi tutto si è affermato. Però abbiamo questo impianto che recentemente è stata ripresentata una scia inizialmente sospesa per aggiornamenti tecnici all'impianto e quindi loro sono adesso titolati a metterlo in funzione. La cosa preoccupa notevolmente i cittadini perché in queste ultime settimane, anche prima di agosto, l'impianto è stato messo in funzione per fare delle prove e hanno avuto già i primi disagi in termini di odore e anche di fumi che ovviamente dato il periodo estivo arrivavano in casa perché le finestre erano aperte e spesse volte sono scesi in strada proprio perché era irrespirabile l'aria. Allo stato attuale quali sono le vostre richieste? Allora le richieste innanzitutto è di chiarire dal punto di vista dell'amministrazione comunale quali sono le iniziative che sta prendendo anche perché c'era sembrato di capire che ci fossero delle irregolarità urbanistiche per cui l'impianto non poteva proprio essere costruito in quella zona, in quella struttura. Se proprio deve essere messo in funzione vogliamo assolutamente che vengano fatte tutte le verifiche da parte dell'ARPAC sulla qualità dei fumi che ritieniamo comunque essere dannosi per quanto riguarda la salute dei cittadini è di far installare le centraline per fare questo in maniera permanente in modo da monitorare l'evoluzione di questo impianto che a seconda dei momenti in cui viene acceso può avere più o meno emissione di fumi e poi avere un incontro pubblico con i cittadini per spiegare poi i motivi per cui l'amministrazione non è riuscita a bloccare questo impianto e cosa si può fare per quantomeno per farlo delocalizzare o quantomeno per chiudere. Queste sono le richieste che noi facciamo e ci aspettiamo che l'amministrazione risponda più presto.